Buonasera, ben trovati alla nostra terza edizione del TG6 che apriamo parlando di ambiente perché le discariche dei veleni di bussi continuano ad inquinare. Questo dice una relazione dell'Arta-Abruzzo che ha analizzato campioni di acqua di falda. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. La mega discarica dei veleni tossici di bussi sul Tirino continua ad inquinare. Quanto emergerebbe nella relazione di Arta-Abruzzo dello scorso febbraio inviata al Ministero dell'Ambiente, alla Direzione Rifiuti e a quella Servizi Pubblici della Regione Abruzzo, a Ispra e Solvè, attuale proprietaria dell'area industriale. La relazione resa pubblica dal Forum dell'Acqua riporta dati di campionatura delle acque di falda superficiale e profonda con prelievi eseguiti tra l'ottobre e il dicembre del 2015 nelle discariche 2A e 2B situate a monte dell'impianto industriale, nell'area della fabbrica ancora in funzione e nella discarica Tremonti a fianco al fiume Pescara. Le acque a valle della discarica 2B sono risultate essere le più contaminate tra i vari settori, dice la relazione. Nelle discariche 2A e 2B per il tetracloroetilene si tratta di dati 160 volte superiori ai limiti di legge, così come l'esacloroetano 114 volte oltre i limiti. Nello stabilimento industriale a valle della barriera idraulica e nei pozzi spia, il clorulo di vinile, un potente cancerogeno, arriva 10 volte oltre il limite di legge. E nella falda profonda a 40 volte il limite. Di rilievo anche i dati relativi ai prelievi sulla Tremonti, che è stata protetta con una palancatura per evitare percolamenti. Di cloroetilene 4.500 volte oltre la soglia ed esacloroetano 149 volte più del limite consentito. Infine, la relazione dell'Arta raccomanda attività di messa in sicurezza e misure di prevenzione nel minor tempo possibile. Parliamo ora di trasporti, perché si è tenuto ieri all'Aurum di Pescara l'atteso vertice tra i membri della regione Abruzzo e i rappresentanti della compagnia di volo Ryanair. Un incontro che si è concluso con la disponibilità del vettore arrestare nello scalo abruzzese solo in caso di eliminazione da parte del governo dell'aumento della tassazione municipale introdotta nei mesi scorsi a Roma il prossimo 7 aprile. Ci sarà l'incontro tra il governatore Luciano D'Alfonso, i vertici della Ryanair ed il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio. Ma torniamo a quanto accaduto ieri all'Aurum. Vediamo il servizio di Francesca Romanatesti. L'incontro era focalizzato sulla trattativa da portare avanti tra regione Abruzzo e Ryanair, con l'obiettivo di mantenere all'aeroporto di Pescara tutte le tratte guadagnate fino ad oggi. E ieri pomeriggio all'Aurum Luciano D'Alfonso e tutte le rappresentanze del caso hanno potuto stringere la mano e sedersi allo stesso tavolo di David O'Brien, direttore commerciale della compagnia Low Cost. Al suo arrivo la prima dichiarazione è stata fulminante e perentoria. Ryanair ha tutte le intenzioni di restare a Pescara, ma la nostra compagnia non è più disposta a sovvenzionare il fondo di sussidio destinato dall'Italia. Il riferimento è alla tassa urbana introdotta dal governo Renzi a gennaio, quella che ha causato la decisione di tagliare molte delle rotte oggi in funzione dall'aeroporto di Pescara. La riunione si conclude in un'ora e al termine il governatore D'Alfonso annuncia l'incontro a Roma con il ministro ai trasporti Graziano Del Rio, fissato per il 7 aprile, perché sarà il governo a dover intervenire per salvare la situazione. Questa è una competenza del ministero e del ministro. Noi utilizzeremo argomenti, numeri, elementi oggettivi per fare in modo che si accendano luci adeguate a che il ministro e il ministero considerino con atteggiamento nuovo la questione della tassazione. Qual è il ruolo che noi abbiamo? Come regione e come regioni, assieme al dottor O'Brien e ai suoi collaboratori e colleghi, spiegheremo al ministro e al ministero le ragioni per cui vale la pena rivedere, riconsiderare e ripensare. La decisione è di stretta competenza del ministro. Se mi si chiede che cosa penso dell'incontro, io ho fiducia, però la decisione è del ministro. All'incontro tra i vertici era presente anche il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, che ha richiesto di presenziare per ascoltare direttamente le intenzioni di Ryanair e al termine dell'incontro ha dichiarato. Se c'è oggi Ryanair così forte in Abruzzo che produce questi passeggeri, lo si deve alle politiche del centro-destra. Abbiamo fatto un consiglio regionale in cui abbiamo richiesto questo incontro. Faccio presente che all'inizio le prime dichiarazioni dell'attuale maggioranza erano state molto più leggere sul tema, ovvero troveremo altri vettori. Mi pare che oggi invece siamo calibrati sulla soluzione vera, ovvero Ryanair deve restare, punto e basta. Ryanair è stata molto chiara, la tassa di Renzi messa sui trasporti operatori deve andare via. E nel prossimo servizio parliamo di un'intervista, ascoltiamo il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che parla dell'area di crisi Peligna. Vediamo. Riconoscere l'area di crisi alla zona della Valle Peligna è quanto chiede l'ex sindaco di Raiano ed ex consigliere provinciale Enio Mastrangeli che bacchetta la politica sulla questione dell'area di crisi complessa. Per Mastrangeli c'è stata una grande incapacità della classe dirigente. Ascoltiamo a tal proposito l'opinione dell'onorevole Giovanni Lolli, vicepresidente della giunta regionale. Adesso sta per uscire il regolamento nazionale che io già conosco, il regolamento nazionale stabilisce che in Abruzzo funziona così lo Stato, individua i sistemi locali del lavoro che possono essere da parte della regione scelte come aree di crisi. Certamente la Valle Peligna, non è neanche a dirlo, ci sarà come ci saranno altri territori burzesi e lì può operare lo strumento da un milione e mezzo di euro in su come investimento. E poi però noi abbiamo bisogno anche di dare credito. Io adesso alle 5 devo andare a una riunione che si tiene da me con tutte le forze sociali equilane e stiamo vedendo due strumenti. Uno generale di accesso al credito, cioè soldi sempre dal 4% che diano garanzie alle banche che accettino quindi le richieste delle piccole imprese che oggi voi sapete sono strangolate in questo territorio come altrove e l'altro è un intervento specifico di rientro in centro storico da parte delle attività. Apriamo la pagina della cronaca. Le fiamme gialle di Pescara hanno scoperto una truffa ai danni di 142 imprenditori. Una intermediatrice finanziaria di Pescara prometteva infatti finanziamenti esteri a fondo perduto inesistenti. Vediamo. Avrebbe proposto prestiti per oltre 300 milioni di euro provenienti da fantomatici fondi esteri truffando 142 clienti. Le fiamme gialle del nucleo della Polizia Tributaria di Pescara coordinate dal PM della Procura di Pescara Barbara Del Bono hanno posto agli arresti domiciliari il titolare di uno studio di consulenza finanziaria di Pescara indagato per truffa aggravata. Le indagini eseguite hanno fatto emergere una consistente ed articolata truffa nei confronti di centinaia di persone di Marche, Molise, Lazio, Toscana, Campania, Calabria, Puglia e Piemonte oltre a Lombardia e Veneto. Quasi tutti titolari di attività commerciali in stato di forte difficoltà finanziaria che si erano rivolti allo studio di consulenza al fine di ottenere finanziamenti esteri a fondo perduto. Per carpire la fiducia dei clienti la professionista con l'aiuto di altri soggetti aveva formato un'articolata struttura di facciata tanto da apparire come amministratrice di una solida ed affidabile società di intermediazione finanziaria capace di gestire rapporti con organismi creditizi esteri. Una volta agganciati gli ignari clienti faceva sottoscrivere contratti redatti in lingua inglese con fantomatici istituti esteri con condizioni contrattuali vantaggiose, poi chiedeva il versamento di acconti fino al 4% dell'importo del finanziamento promesso. Dagli accertamenti bancari e dalle analisi dei flussi finanziari, le fiamme gialle hanno ricostruito truffe ai danni di 142 imprenditori per un totale di finanziamenti esteri promessi per oltre 300 milioni di euro, da cui la professionista avrebbe ricavato un profitto di circa 330 mila euro. Ancora cronaca, la squadra mobile della questura di Pescara ha infatti recuperato altro materiale rubato la notte del 23 gennaio scorso ad un noto antiquario pescarese. Nello specifico sono stati recuperati due mobili antichi del valore di 150 mila euro. I mobili sono stati rinvenuti a Roma e una donna romena di circa 30 anni è stata denunciata per ricettazione. All'operazione ha collaborato anche la squadra mobile della capitale. La restante parte della rifurtiva è stata trovata a Sulmona due giorni fa a bordo di un furgone. Il furgone, il mezzo, era in viaggio e gli uomini della squadra mobile hanno atteso il momento più propizio per bloccarlo. Il valore complessivo delle opere d'arti recuperate è di oltre un milione di euro. Nell'ambito della vicenda sono stati denunciati sempre per ricettazione anche due pregiudicati residenti a Sulmona, due uomini di 56 e 51 anni. Lasciamo la cronaca, ci spostiamo a Roseto perché alvia il bando dell'amministrazione comunale per la riqualificazione del territorio e l'acquisizione dell'arena Quattropalme. La spesa prevista è di oltre 4 milioni di euro ed è compresa nella proposta di project financing presentata al comune dalla dimensione solare SRL. Elisa Leuzzo. Sindaco, da questo progetto quali saranno i vantaggi per il comune? Questo, ripeto, è un project financing importante. Per la prima volta questa città ha ricevuto un'offerta importante, un'altra fu ricevuta 7-8 anni fa per il mercato coperto e poi non andò a buon fine da una società seria. È un progetto che porta alla riqualificazione di tutta la parte centrale della città di Roseto, l'acquisizione dell'arena Quattropalme, la sua messa a norma. Il nostro sogno nel cassetto è rigiocare il torneo Lidl delle Rose nell'arena Quattropalme. Ci sarà anche la sistemazione del lungomare Celommi nella parte ovest, le aiuole che non è stato completato, non fu completato il progetto e anche via Marine, via Marco Aurelio a sud di via Cristoforo Colombo, dove stiamo per intervenire, verrà sistemato anche tutta quella parte a sud e quindi anche l'acquisizione dell'area di risulta e le ferrovie dello Stato nella zona centrale dove ci saranno altri parcheggi. Dopotutto le gare andate deserte abbiamo pensato di proporre questo project per ridare ai cittadini quello che è forse il simbolo di Roseto, sia per ragioni sportive che per ragioni affettive. Il progetto che abbiamo presentato qui a Roseto sarà il primo esempio di mobilità sostenibile e di progetti innovativi che verranno calati sulla cittadinanza di Roseto. Il progetto in particolare prevede appunto sistemi di mobilità intelligente, gestione e riqualificazione, monitoraggio della qualità dell'area, tende ad abbattere le emissioni degli inquinanti all'interno dell'area, dare servizi, erogare servizi innovativi ai cittadini che avranno anche un'app per avere il pagamento facilitato del parcheggio, trovare più facilmente il parcheggio e avere tutte queste informazioni in real time. E torniamo a parlare di trasporti perché dal prossimo mese di ottobre l'aeroporto internazionale d'Abruzzo ripristinerà il collegamento con Torino. A darne notizia il presidente della saga, la società di gestione dello scalo abruzzese, Nicola Mattoscio. Sarà la società romena Blue Air a garantire tre voli settimanali. Con grande soddisfazione annunciamo questa nuova iniziativa che da tempo veniva sollecitata da diversi operatori economici. Per la nuova opportunità la saga è grata a Blue Air per la sua attenzione verso lo scalo abruzzese. Sono le parole del presidente dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, Nicola Mattoscio, che annuncia il nuovo volo Torino-Pescara che verrà introdotto dal prossimo ottobre. Il collegamento viene offerto con biglietti a partire da 19,99 euro a tratta, tasse incluse, incluso anche bagaglio fino a 10 chili e sarà possibile effettuare il check-in online o in aeroporto gratuitamente. Un'esigenza dedicata al mercato business, spiega il presidente Saga e la compagnia romena con base a Torino, nata 11 anni fa, ha risposto positivamente alla richiesta dell'Abruzzo, aggiungendo la destinazione alle altre 69 attualmente già attive. Una flotta di 737 Boeing, saranno tre i voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì. Un'esigenza mossa da interessi economici come quelli della Sevel, che attualmente vede l'utilizzo di Executive Jet per i suoi manager, ma a muoversi negli ultimi mesi sono stati anche tanti utenti che, mediante una pagina social, hanno richiesto il ripristino con Torino, precedentemente collegato dalla società Air Vallée, che secondo gli utenti non ha espresso al meglio le potenzialità del collegamento a causa di costi molto alti. Cambiamo ancora argomento, si intitola La Città che parla, il progetto messo in campo dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Pescara, che grazie ad un'applicazione aprirà le porte virtuali di 10 monumenti della città. Si chiama La Città che parla, in realtà è un'iniziativa volta a introdurre quelle che sono le applicazioni multimediali alla cultura e anche alle bellezze della città. Per questo la Presidenza del Comune di Pescara ha voluto organizzare una conferenza, ma soprattutto presentare il progetto. Come si svolgerà? È un progetto che prevede 10 mattonelle per i 10 monumenti più importanti di Pescara, con la speranza di poter ampliarli anche nel numero. Sono 10 porte mediatiche e multimediali che ci permettono di entrare in questi monumenti con gli strumenti di oggi, con la possibilità con un telefonino di avvicinarsi al Curcode e poter vedere quello di cui si tratta per quel monumento. Quindi andiamo da Casa d'Annunzio, al Museo Cascella, al Circo Laternino, al Ponte del Mare, al Comune di Pescara, al Conservatorio. Insomma, tantissimi monumenti a cui si aggiungono anche le due chiese principali della città, che sono la Basilica della Madonna dei Settodori e la Cattedrale di San Cetteo. È un mezzo per riscoprire la cultura cittadina, la città che parla, perché è l'istituzione che si avvicina ai cittadini e ne parla come se fosse un maestro elementare, per spiegare in maniera semplice, con toni pacati, quello che rappresenta un po' Pescara e la sua storia. Ma è anche uno strumento che potrebbe migliorare in futuro, con l'aiuto di commercianti e dei servizi della città, che potrebbero utilizzare questi strumenti, magari con il mezzo della sponsorizzazione, e ci potrebbero consentire di ampliare la rete. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Si svolgerà a Montesilvano il 17 e 18 marzo prossimi, dunque domani e dopodomani, il quindicesimo congresso dell'AICRE, l'Associazione Italiana dei Consigli e dei Comuni delle Regioni d'Europa. L'AICRE è la più grande organizzazione di enti locali e regionali, con più di 100.000 enti associati. L'Associazione Italiana, con sede a Roma, rappresenta in modo unitario le regioni, le province e i comuni a livello europeo. Quest'anno l'Abruzzo ospiterà la quindicesima assemblea congressuale nazionale, una a due giorni che si svolgerà a Montesilvano, un'occasione per comprendere quelle che sono le attività dell'AICRE e per rinsaldare i rapporti di confronto tra l'Europa e i cittadini, soprattutto in un momento storico in cui i confini europei sono messi sotto la lente di ingrandimento per i flussi migratori. Un rapporto che è venuto a mancare perché si è sempre parlato di Europa economica e non di Europa che guarda e va verso i bisogni reali, quindi la partecipazione diretta del cittadino a ciò che accade nella nostra comunità europea e quindi domani si parlerà anche attraverso dibattiti che si terranno nel pomeriggio con la presenza di Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna ed altri importanti relatori, si parlerà anche di economia circolare. Tutto ciò che si deve fare deve essere fatto all'insegna del riciclo, quindi non dello spreco. Quindi una cosa che viene organizzata, che viene prodotta, deve avere già in sé la finalità che può essere riutilizzata. Si dibatterà in mattinata anche di ciò che sta accadendo intorno al fenomeno migratorio, quindi tutte le politiche che l'Europa sta mettendo in campo. Ecco tutto questo in queste due giorni partecipata da tanti sindaci della nostra regione, da tanti delegati che verranno da tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto anche da sindaci che verranno da regioni limitrofe, vicine e lontane proprio per attivare, proprio per far sviluppare un dibattito interessante. Parliamo ora di sociale perché da Canzano in provincia di Teramo è partita un'iniziativa di solidarietà per la realizzazione di un calendario con lo scopo di raccogliere fondi contro la fibrosi cistica. La collettività di Canzano, ancora una volta, si è resa protagonista di un gesto di attenzione e solidarietà verso i malati di fibrosi cistica. I giovani dell'associazione canzanese Don't Stop Me Now hanno consegnato al responsabile del centro, il dottor Paolo Moretti, il ricavato della vendita dei calendari realizzati in collaborazione con gli alunni e i docenti dell'istituto comprensivo Margherita Hac di Castellalto nell'ambito della terza annualità del progetto solidale Lavorando un sogno. I ragazzi sono stati subito entusiasti di prendere parte al progetto, le famiglie si sono dimostrate disponibili a concedere la loro autorizzazione e poi hanno acquistato il calendario e hanno contribuito così alla raccolta dei fondi. Si è deciso di devolvere quanto raccolto a un progetto di ricerca molto importante che riguarda il trapianto di polmone, è un tentativo di utilizzare polmoni che in altre situazioni venivano non utilizzati. Significa che c'è un medico, un ricercatore in Lombardia che ha messo in piedi un'apparecchiatura che è in grado di tenere in vita i polmoni per circa 24 ore, quindi permettendo di pulirli e quindi renderli disponibili per un trapianto, polmoni che altrimenti andrebbero persi. Ulteriore donazione al centro è stato lo spirometro, strumento indispensabile per misurare la funzionalità respiratoria dei piccoli pazienti. Anche in questo caso la sfida solidale è partita da Canzano. L'assegno ha un importo di 1530 euro e ringrazio logicamente tutte le persone che hanno acquistato il calendario, che hanno dimostrato infinita sensibilità e bontà verso questo progetto. Si sono svolti questo pomeriggio i funerali del nostro collega Antonio Recanati nella chiesa di San Pietro Apostolo a Loreto a Prutino. Una folla composta e commossa ha dato l'ultimo saluto ad un Antonio, una delle anime più importanti della testata giornalistica Vestina News, da un anno collaboratore anche della nostra emittente. Presenti tanti colleghi con i quali Antonio Recanati aveva lavorato negli anni scorsi, era stato tra le altre cose collaboratore del quotidiano Il Tempo e di altri emittenti regionali. Nel corso della sua omelia il parroco Don Camillo ha ricordato quella che era anche la grande passione di Antonio Recanati e poi l'impegno nel sociale del nostro collega, il suo attivismo nella vita della parrocchia. Antonio Recanati è stato stroncato da un malore improvviso lunedì sera a Silvi, mentre era in macchina, tornava a casa dopo aver trascorso la serata proprio nella nostra redazione alla moglie Maria Rita, ai figli Stefano e Daniel e alla famiglia tutta. Di nuovo le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di TV6 e del nostro editore Quintino Pallante. E siamo alla pagina sportiva, apriamo con il calcio, parlando del Pescara che prosegue la preparazione in vista del posticipo di domenica prossima in casa del Crotone, Pescara reduce dalla sconfitta con il Novara, così come i Pitagorici che nell'ultimo turno sono stati battuti dal Brescia. Oggi doppia seduta in casa Bianca Azzurra, la Padula è tornato con il gruppo. Vediamo il servizio. Quella di domenica potrebbe essere la partita giusta per la riscossa, per il riscatto del Pescara? Sì, un riscatto dal punto di vista del risultato, come diceva qualche tuo collega, perché per me il Pescara non è morto nel modo più assoluto, anzi ha dato segni di grande vitalità in queste partite, purtroppo non portando a casa quello che in molte occasioni ha meritato, perché se sabato all'Adriatico c'è una squadra che ha fatto tutto per vincere la partita, quella sicuramente non era chi l'ha vinta, ma è il Pescara. Purtroppo in questo momento la palla va sul palo e va fuori. Il calcio è anche questo e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, non abbatterci in questi momenti, non esaltarci in altri, ma essere sempre con la barra dritta guardando un obiettivo che noi abbiamo in mente e cercheremo di arrivarci veramente con il coltello tra i denti. A Crotone ci saranno ritorni importanti, rientri in difesa. A proposito di difesa, da oggi è ufficiale Diamutene, nuovo giocatore del Pescara? Sì, Diamutene si era aggregato a noi per allenarsi con noi. Il mister ha ritenuto che è un giocatore che fisicamente sta abbastanza bene, è un giocatore di esperienza. Ci si è aggiunto anche il fatto che Coda purtroppo ha avuto quell'infortunio sabato e quindi abbiamo deciso di tesserarlo. È un giocatore che è già stato a Pescara, di grande esperienza, spero che ci possa dare una mano anche lui. Come avete ascoltato proprio dalle parole del presidente del Pescara, è stato tesserato proprio nella giornata di oggi Diamutene, che è dunque un nuovo giocatore del Pescara, per lui è possibile, molto probabile, già l'impiego, almeno la convocazione per la gara di domenica prossima a Lezio Scida. Ma quella di oggi è stata anche la giornata del club Daniele Sebastiani, club intitolato proprio al presidente Biancazzurro, con la cerimonia che si è tenuta in un noto ristorante di Pescara. Vediamo. Francesco Del Zoppo, presidente del club Daniele Sebastiani, socio fondatore, come è nata Francesco l'idea di intitolare il club al presidente Sebastiani? Il club ci è venuto spontaneo, a Daniele, perché Daniele in questi anni è riuscito a fare delle cose straordinarie, dal 2009 quando la società era fallita, oggi essere qui e parlare di play-off con una squadra giovanissima che sta tentando di vincere il campionato, per noi era una cosa doverosa fare al presidente questo regalo. William, dal club Giovanni Galeone al club Daniele Sebastiani sono passati tanti anni. Dobbiamo tutti constatare che Daniele Sebastiani è ancora qui a dirigere un club che praticamente ha ottenuto anche dei buoni risultati e credo che sia doveroso un riconoscimento a questo personaggio che praticamente ha la capacità anche di gestire una squadra di calcio, una società di calcio che praticamente ha grossi problemi. Mai un punto di penalizzazione, mai uno stipendio arretrato, quindi credo che sia una società che tutti additano come una delle migliori società nel mondo del calcio di Serie B e quindi credo che questo riconoscimento sia doveroso. Noi parliamo ancora di calcio, ancora Serie B, questa volta del Lanciano che nonostante le difficoltà di una partita contro una squadra che è in piena zona playoff, il Cesena vuole proseguire la marcia verso la salvezza intrapresa con l'avvento sulla panchina rossonera di Primo Maragliulo. Quella di sabato sarà una partita speciale per il grande ex Guido Marilungo che con il Cesena ha anche conquistato la promozione in Serie A. Oggi allenamento ad Ortona per i rossoneri, tutti presenti al comunale ortonese ad eccezione di King e Boldore. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. La Virtus Lanciano prosegue la preparazione in vista del match di sabato al Biondi contro il Cesena. Una gara sulla carta molto difficile contro un team in salute in piena lotta per un buon piazzamento nei playoff e che sabato scorso a Como ha trovato riscatto dopo l'inopinata quanto sfortunata sconfitta a Casalinga con la Salernitana. Il tecnico Cesena Tedrago pensa ad una conferma del 4-2-3-1 con l'inamovibile Torre Djuric, primo riferimento, Ciano e Ragusa sugli esterni e Falco favorito sul Rossetti per agire alle spalle del centroavanti bosniaco. La Virtus Lanciano però è in un momento esaltante. Con Maragliulo in panchina sono giunti 16 punti dei potenziali 21, una media da promozione. Ora due turni casalinghe consecutivi. Il tecnico Salentino ha recuperato Salviato. A parte Boldore e King, tutti gli altri sono a disposizione. Tra questi era atteso ex Guido Marilungo che con la maglia bianconera romagnola ha centrato una promozione in A nei playoff e ha giocato in Serie A prima del grave infortunio dal quale in questi mesi ha dimostrato di essersi finalmente ripreso. Come si batte il Cesena. Fare una partita perfetta, commettendo pochissimi errori e cercare quelle occasioni che ti lasciano di sfruttare. Che cosa è cambiato nelle ultime sette gare? Marilungo lo spiega così. Siamo stati molto colpiti da quella partita col Trapari dove poi è stato esenerato il mister e ci ha fatto sentire proprio che avevamo toccato il fondo. E quindi mi sentavo proprio, secondo me, o perlomeno io, mi sentivo proprio in colpa anche per l'esonero del mister perché poi in campo ci andiamo noi. E quindi da lì, secondo me, quella sconfitta così, che potevamo prendere anche dieci gol senza avere un minimo di reazione, ci ha dato quella scossa di dire qua bisogna mettere a pedalare perché siamo stati veramente ridicoli. Siamo alla pagina della Lega Pro. Parliamo del Teramo. Avere fiducia di allenatore e compagni è fondamentale. Parla così l'attaccante del Teramo, Mirko Petrella, che punta la doppia cifra per quanto riguarda le marcature e che potrebbe ritrovare una maglia da titolare sabato prossimo nella gara di Arezio a proposito della sfida in terra toscana. Domani ci sarà la tradizionale conferenza stampa del tecnico Vincenzo Vivarini. Vediamo. Le difficoltà ci sono state da inizio stagione. Adesso è arrivato il momento dove non si riesce a buttarla dentro. Però quando prendi un palo, una traversa, un gol annullato, un salvataggio sulla linea... Non so che dirti, guarda. Purtroppo ci sono dei momenti così che ci portiamo avanti a tutta la stagione e dobbiamo voltare pagina per ripartire. Diciamo che sicuramente qualcosa dentro di me è cambiata perché quando le cose ti riescono meglio sicuramente anche tu riesci a dare qualcosa di più alla squadra. Quindi sei più in fiducia, senti la fiducia dei compagni e del mister che sono fondamentali in questo sport. Senza la fiducia non si arriva a fare buoni risultati ed è questa anche la cosa più importante che mi ha portato a fare un campionato comunque discreto. Quello, diciamo, è l'obiettivo un pochino di ogni attaccante, la doppia cifra. È chiaro che più gole si fanno è meglio è. Adesso non sto pensando a 10, 9, 11, 12. Io cerco sempre di fare il meglio per la squadra. Arezzo è un'altra grandissima trasferta. Secondo me, delle ultime parti che ci rimangono è la partita più difficile. e quindi bisogna prepararla nel modo migliore. Veniamo da un periodo comunque positivo e tranne la partita con la lupa, per il resto tutte buone prestazioni e abbiamo portato a casa troppo poco. Adesso serve la svolta che cerchiamo da inizio stagione che però non riesce ad arrivare. E dopo il Teramo e la volta dell'Aquila siamo sempre alla Lega Pro. L'estremo difensore, Rosso-Blu, Scotti, parla del momento delicato della squadra in vista del match in casa del Pisa. Vediamo il servizio di Gianmarco Menga. Cercasi equilibrio e serenità. L'Aquila si avvicina alla sfida di sabato contro il Pisa con l'intento di scacciare via la paura della retrocessione. La sconfitta di Sant'Arcangelo ha rigettato il Rosso-Blu in piena zona play-out, nonostante i sette punti in classifica riconsegnati la scorsa settimana dalla Corte federale. A partire da sabato contro il Pisa di Gattuso gli Aquilani sono attesi da un trittico decisivo. A cavallo di Pasqua l'Aquila affronterà il Teramo fuori casa quindi al rientro dalle festività la maceratese che nell'ultimo turno ha colpito e affondato la capolista Spal vincendo a sorpresa per quattro reti a una. Nonostante le difficoltà sul cammino verso la salvezza diffonde ottimismo il portiere Francesco Scotti arrivato nel mercato di gennaio ma diventato in poco tempo uno dei leader della squadra. La squadra è viva la squadra c'è il gruppo ci crede fortemente ora non sono queste due sconfitte che ci devono far abbattere né esaltarci per una vittoria quindi noi dobbiamo essere concentrati preparare bene le prossime otto partite e poi i conti si tirano alla fine. Ecco la prima di queste otto è proprio il Pisa lanciatissima anche magari per mettere un po' di fiato sul collo alla spalla non è proprio l'avversario ideale in questo momento? Ma diciamo che forse potrebbe diventare l'avversario ideale se l'Aquila affronta con la mentalità giusta e la voglia di riscatto di queste due sconfitte penso che potrebbe essere la giornata ideale per calmare le chiacchiere che ci sono di eventuali retrocessioni. Sul fronte formazione intanto da giorni si parla di un possibile cambio di modulo con il passaggio dal 3-4-3 al 3-5-2 questo sistema di gioco consentirebbe al tecnico Perrone di rimpolpare la mediana con uno tra De Francesco e Bulevardi. In difesa sta bene Emanuele Pesoli Perrone spera quindi di proporre contro il Pisa la difesa titolare con il rientrante Maccarrone ed uno tra Piva che potrebbe giocare anche come quinto di centrocampo e Cosentini. Siamo al basket perché con la dichiarazione di fallimento depositata questo pomeriggio dal giudice Giovanni Cirillo il Tribunale di Teramo mette un primo punto fermo almeno dal punto di vista civile sulla vicenda del Teramo Basket accogliendo le istanze fallimentari presentate sia da Equitalia per un debito di 2 milioni di euro con l'erario sia quella di un'agenzia di procuratori sportivi per debiti con ex giocatori fallimento rispetto al quale il giudice delegato ha nominato come curatore l'avvocato Fabrizio Silvani fissando per luglio l'adunanza dei creditori per l'approvazione dello Stato passivo per quanto riguarda invece le motivazioni del fallimento bisognerà attendere le prossime settimane e questa era l'ultima notizia della nostra terza edizione del TG6 grazie per averci seguito dalla nostra redazione come sempre l'augurio di una serena notte grazie per aver guardato il video